Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Torino, una provincia di gusto. Ci troviamo in Val Pellice e quest'oggi andremo a scoprire le tradizioni culinarie delle valli valdesi. Andiamo a incontrare Ezio Giai, esperto di questa cucina che ci introdurrà proprio alle bontà di queste valli. L'alimentazione tradizionale delle valli valdesi era composta soprattutto dal pane, ovviamente, dal latte, dal burro e dai formaggi. Spesso c'erano i salumi che venivano prodotti ovviamente in casa e anche la polenta era l'alimento tradizionale quotidiano. Spesso la polenta veniva consumata in tutti i pasti giornalieri e accompagnata da poco formaggio o spesso dal vin cotto. Le tradizioni valligiane dalla super barbetta alle caillette sono state recentemente riprese nella straordinaria attività di Walter Reinhard, questo chef di Torre Pellice che ha reso la cucina valdese famosa in tutta Italia e in tutto il mondo. Siamo in compagnia di Walter Reinhard, lo chef del ristorante Flipot di Torre Pellice. Ricordiamo che il ristorante Flipot ha due stelle Michelin. Stiamo per preparare insieme la super barbetta, è il piatto più tipico di queste valli e prende il suo nome dall'antico nome dei valdesi, barbetta. Allora andiamo a vedere gli ingredienti quali sono. Gli ingredienti sono molto semplici, quindi cavolo, burro, spezie, quindi pepe, macis, cannella, chiodi di garofano, della toma fresca o del parmigiano grattugiato, della toma stagionata, del brodo di maiale e gallina e dei gressini. Cominciamo a preparare. Perfetto, allora incominciamo a mettere subito del cavolo, poi mettiamo dei pezzettini di burro. Il cavolo serve soprattutto a non far attaccare i nostri gressini e poi di gressini. Naturalmente mettiamo i gressini. Certo. Tiriamolo vicino, prego. Allora, grazie mille. Io do una mano questa volta. Dei gressini e poi a questo punto, fatto questo, mettiamo le nostre spezie, quindi pepe, macis, cannella, chiodi di garofano, il formaggio. In abbondanza. Sì, sì, bisogna essere molto abbondanti. La nostra toma e poi ancora qualche pezzettino di burro. Poi a questo punto andiamo avanti con altri strati, ma poi si bagna con il brodo naturalmente. Noi abbiamo fatto solo strato per essere più veloci. Ma nello stesso tempo avevamo già preparato prima un'altra soupa che adesso vi mostriamo. Perché questa va in forno. Per quanto tempo? Per un'ora e mezza. E adesso, Walterinard, mettiamo la soupa barbetta nel piatto. Diamo l'ultimo tocco con del burro nocciola, con delle spezie e dei profumi delle nostre valli. Andiamo adesso a conoscere altri due prodotti delle valli valdesi. Siamo in compagnia di Bruno e Federico, da generazioni produttori di salumi. Ma di cosa si tratta? Che cos'è questo salame così scuro? Questa è la mostardela. È un prodotto tipico della Valpellice. Viene fatto con i sottoprodotti del maiale, la testa, le lingue, la cotenna, i ciccioli. C'è un soffritto di pori e di cipolle e aglio. Viene tutto cotto, tritato, impastato col sangue, ecco perché ha questo colore violaceo. Ricotto e speziato naturalmente con della noce moscata, del pepe, delle spezie miste. Ed è un prodotto stupendo. Si presenta sotto questa forma. Dentro si possono vedere dei pezzi di ciccioli della cotenna ed è fantastico. Anche Bruno si chiama il produttore di formaggi. Di cosa si tratta? Che cos'è questa specie di fieno? Questo qua è il fieno è festuca di pino che è avvolto, il saras del fegno è avvolto da dentro per stagionarlo. Il saras è prodotto dal siero di latte vaccino. È scaldato a 75 gradi con un'aggiunta del 10% di latte. A 84 gli mettiamo l'acido citrico, aspettiamo che ha fiori e lo facciamo cuocere fino a 95 gradi. Con 25 giorni di stagionatura lui è pronto per essere assaggiato. E dalle Valli Valdesi un appuntamento a una nuova edizione di Torino, una provincia di gusto. Grazie. 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 Grazie.